Si è conclusa ieri con grande successo di pubblico la 27esima edizione della Giosra a Castello del Matese, la festa medievale che si tiene tradizionalmente nel primo weekend di agosto. È ormai diventata un appuntamento che richiama nel piccolo centro di Castello del Matese migliaia di visitatori per assistere alla manifestazione ma anche per degustare i prodotti tipici del territorio in un clima di grande festa, fra musica e sfilate in rigorosi costumi medievali. Quest'anno la vittoria è andata alla contrata a cavallo. L'evento rievoca l'assettio dei baroni del 1460, episodio storico risalente a quanto Castello era la rocca alta di Piedimonte fedele a Ferdinando d'Aragona, luogo dove ripararsi per l'ultima disperata resistenza. Per l'occasione Castello del Matese è stato addubbato come ogni anno con bandiere e fiaccole. Le piazze e i rioni sono stati animati con concerti ed eventi come mostri e giochi d'epoca. Le note dei flauti poi, vicolo dopo vicolo, hanno accompagnato i visitatori fino alla Torre Grande. Particolarmente caratteristici sono stati i banchetti con trattaioli allestiti nelle piazzette interne di Castello dove è stato possibile degustare i piatti tipici della cucina castellana in Matesina. Anche le contrate sono state animate con canti e danze la sera del sabato in un itinerario gastronomico dove si respirava una sfida nella sfida a colpi di piatti tipici. L'appuntamento è per il prossimo anno. Da Castello del Matese è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it